Fate la solita ricerca, state a pettine e controllate, ok? Beh, da una parte e tre dall'altra, in contatto un versante con l'altro. Quelli che sono solo SAF restano su e calano le persone se queste non sono un po' di caldo. Chi è fluviale, va giù e fa lavoro. Poi se un mutator decide se bisogna andare a rio. Mola, 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 mola... vuoi che scenda un altro? Grazie a tutti